...ri fatti suoi, dato che noi dopo Tandicchia ci siamo pure dimenticati di loro. E sembrava addirittura, signor Commissario, che loro non piangessero con noi. Ho capito, ho capito. E come? Io e mia mogliere mai a nessuno vediamo della compagnia. Dove andiamo andiamo, arriviamo a Palermo e lì c'è un cognato. Mio fratello Salvatore. Scendiamo a Erike e lì c'è un cugino. Io il nipote Mario. Ma fanno facci, non mi durano a mangiare. Attendere poi, non ne parliamo. Chi me ne vuote Filippo? Sua moglie ci aveva preparato uno spingione per primo, e per dopo. C'è da... C'è da... Quoi è che ti eserci o l'ho?